Domani, mercoledì 16 settembre, scade la prima rata dell'Atari. Una scadenza che è stata posticipata rispetto agli anni passati, che solitamente si pagava entro il mese di giugno, e abbiamo deciso di rinviarla a settembre proprio per agevolare e andare incontro alle esigenze di tante famiglie, imprese, cittadini, che dopo il lockdown e dopo le difficoltà economiche accorse durante i mesi di chiusura. Abbiamo mantenuto la possibilità di pagare in più rate, quindi 16 settembre si potrà pagare o tutta l'Atari oppure pagare un terzo, quindi pagare le due rate successive rispettivamente a ottobre e a novembre. Ma quest'anno abbiamo anche attuato un intervento davvero straordinario per ridurre l'Atari, infatti per la prima volta tutte le attività di Pesaro avranno, hanno avuto nel propri bollettini una riduzione che va dal 20 al 25% rispetto alla parte variabile dell'Atari. Quindi per la prima volta tutte le attività di Pesaro, tutte le attività che sono rimaste chiuse nel periodo del lockdown, vedranno una riduzione importante dell'Atari. Un intervento che quota sul bilancio del Comune di Pesaro 660 mila euro, quindi una riduzione importante che abbiamo deciso di mettere come amministrazione comunale proprio per andare incontro alle tante esigenze e difficoltà in cui alcune attività si trovano oggi.